Buongiorno a voi le ballerine e i ballerini e benvenuti in questo nuovo tutorial. Io sono Juan Carlos e vorrei occuparmi oggi con voi di una nuova danza. Qui sotto in descrizione ci sono tutti i collegamenti che vi servono e da ultimo non manca il timestamp per andare dalla didattica alla danza oppure dalla danza tornare in didattica. Ed ora sigla e a ballare! La danza di cui vogliamo occuparci oggi è Patch P. Viene dalla Bretagna, siamo in cerchio chiuso, abbiamo le braccia a W la presa con i nostri vicini è una presa di mignoli queste braccia però non rimangono statiche vedrete che compiono sempre questo movimento in avanti e poi tornano sulla W andiamo a sinistra però non con il piede sinistro andiamo con il piede destro per fare 4 più 4 polka step in avanti e faremo in questo modo polka step, polka step, polka step, polka step sono 4, ne faremo 8 però abbiamo sempre il destro libero perché quando comincia la figura specifica del Patch P è il destro che lavora sempre per incrociare davanti e dietro al sinistro in questo modo incrocio il destro in avanti, butto giù le braccia facendo una gira e il flessione, il peso torna sul sinistro e la stessa cosa avviene all'indietro sempre con la flessione quindi destro incrocia davanti, ricovero sinistro destro incrocia dietro, ricovero sempre col sinistro e contato sarebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anche questa figura la fa due volte ma tutto si comprenderà meglio quando balliamo insieme Patch P pronti? la stessa cosa avviene all'indietro 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 era Patch P dalla Bretagna e voilà questa era la nuova danza grazie sempre per la vostra cortese attenzione magari potreste iscrivervi al canale lasciare un like chissà i vostri commenti qui sotto e al prossimo tutorial ciao 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 ciao